Fino a domenica ci sarà a Pestum una rassegna di musica. Ne parliamo con il presidente dell'associazione Adena Musa che ci spiegherà perché questa iniziativa e a che cosa serve. Nello spazio del Next, l'ex tabacificio di Pestum, ci sarà questa breve rassegna di musica classica con quattro appuntamenti importanti. Tra cui quelli con il maestro Joao Carlos Suere Parreira, Sabato che è il nostro direttore artistico e poi tutta una serie di musicisti e domani una cantante lirica che si esibirà con musiche e canzoni del 700-800 napoletano. Con questi giorni, con queste serate, al Next noi vogliamo riannodare un filo. Il filo con un'esperienza per noi importante che si è tenuta dal 2001 al 2007 con l'associazione da cui Adena Musa nasce e che ha visto per questi anni, in quel periodo, giovani musicisti da tutto il mondo che partecipavano ad un concorso internazionale di musica classica. Davvero, ragazzi da tutto il mondo, sul nostro sito dell'associazione abbiamo vediamo le foto delle riviste sudcoreane, perché in Sud Corea c'è una tradizione, una grande attenzione per la musica classica. Venivano ragazzi da Sud Corea, Giappone e Russia all'Ariston di Pestum in un confronto che non era solo competizione ma anche un confronto di esperienze culturali non solo attinenti alla musica classe. Quindi abbiamo avuto questo concorso internazionale 2001-2007 e di sera un festival che ha portato ad esibirsi non solo a Pestum ma, ricordo, concerti nel Castello di Agropoli, di Santa Maria di Castella Abate, di Pioppi, fiorfiori di musicisti internazionali. Ecco, noi vogliamo riannodare un filo e annunciare in questa breve rassegna di musica classica, vogliamo riannunciare che il progetto riprende. Dal maggio 2024 ci sarà di nuovo un grande concorso internazionale, un festival di musica classica nel Cilento. Mi piace sottolineare che l'ingresso, così come in passato, l'ingresso ai nostri concerti è libero e durante questi giorni ci sarà anche una nostra mostra fotografica sulla musica classica.